Se conquisti Bologna ti do un tortellino Ora lo voglio ora Voglio un tortellino magico Voglio il tortellino succoso e gustoso No, Bologna è già conquistata Intendi, io devo conquistare Bologna Allora un tortellino sai dove te lo puoi mettere Nel piatto Salve a tutti amici e nemici di Scazzoni di Roma E siamo di nuovo su Attila Total War The Last Roman E siamo rimasti dove l'altra volta Nella conquista di Padova Voi mi avete detto guarda puoi conquistare Padova No ragazzi Padova è sotto assedio Non sono io che la sto assediando Dunque non posso entrare nella città Siamo rimasti a un bivio Da due punti di vista Il primo bivio era quello del Sondaggio che Almeno dall'ultima volta che ho visto Cioè ieri Dovrebbe aver stravinto Le votazioni del lasciare La mod di Radius Quindi con tutte le unità che noi abbiamo già visto Io ho giocato nel frattempo per i cavoli miei A un'altra campagna di Belisario Con la spedizione romana Che però mi sono reso indipendente E devo dire Che constatando le due cose È molto più divertente la campagna in modalità orda Perché in modalità indipendente Dovete controllare le città Ed è tutta una menata Però ho notato un'altra cosa A parte i vandali Che comunque sono sbarcati un po' dappertutto Questa cosa non me ne ho reso conto l'altra volta Di questa cosa Che le migliori unità ovviamente si sbloccano Con la caserma 4 Bravo Una cosa più ovvia non potevi dirla A parte questa cosa abbastanza ovvia Ho già scoperto quali sono le unità migliori da utilizzare Perché ho già fatto delle battagliene E grazie a Luca Luca mi ha detto Guarda Che basta pigiare questo X X X X Che ti dà fuori Questo dannato Reso conto delle unità Quindi Grazie San Luca Un giorno diventerai anche tu Martire degli scazzoni E per adesso Mi avete detto di togliere le unità di lancia Se voglio fare degli attacchi programmati Perché sono molto più utili Ad esempio Le unità con la spada Che comunque quando riqualificherò gli eserciti Tra un turno avrò sbloccato Vi ricordate Vi ricordate vero la caserma E dunque cambierò un po' le unità Però adesso teniamoci quelle che abbiamo Perché non ne abbiamo l'esigenza Poi mi avete detto che questo esercito misterioso Tra l'altro sbucherà proprio in questo punto Cioè tra le Alpi Orientali Quindi Me le ritroverò addosso La cosa migliore è Fuggire Garagothest Non so se sbucheranno anche qui a Occidente Proprio comunque dove siamo noi E una cosa interessante che mi avete detto E che sono figo E no a parte quello E che Daniel Ha fatto un commento interessante E mi ha detto A parte che comunque L'ultimo video non ho potuto commentare tutti Qui non ho commentato diciamo un terzo delle risposte Il che mi fa sentire male dentro Però non ho avuto tempo E dato che è passato un po' di tempo Comunque per dirvi che i commenti li ho letti Ma non ho potuto rispondere Il fatto è che Daniel ha fatto Daniel ha fatto un commento molto interessante Di far fare il lavoro sporco e bizantini Cioè quando questa fazione spawnerà Sanno loro doverli affrontare Va bene Lo ripetiamo Blizzario non doveva mantenere Ma soltanto conquistare Idem per questi Ci penseranno i bizantini Scusami L'impero romano d'oriente Scusami Giustiniano Ci penserà lui Come anche ai Mori Almeno io è quello che spero E non temo Anche qui c'è un'altra Eroi audaci Giustiniano è qui allo stretto Sta cercando di costruire il ponte Sta già cominciando a mettere su Su carta bianca Le fondamenta Ma a parte questo Io vi ricordo che L'Africa Non è più nostra Nella campagna mia con Belisario Io me la sto conquistando tutta E sto pronto a affrontare i Mori A saperlo Comunque io direi di ripartire subito La cosa che mi ha fatto pensare Daniel È che mi conviene conquistare Per ora l'Occidente Quindi La Si la Calabria stavo dicendo Proprio Proprio La Liguria e la Provenza Quindi ragazzi Io direi di fare Marcia forzata Anche subito Perché tanto abbiamo già Qualche punto a movimento E di lasciare il lavoro sporco Al nostro caro amato Dov'è la mia marvellata? Qui è paludastra la zona Quindi non è che mi piaccia molto Direi comunque di sostare Verso Bologna Dobbiamo muoverci Il più rapidamente possibile Perché come giustamente Tantissimi di voi Mi avete fatto notare La spedizione di Belisario Era stata fatta e concepita Per prendere l'Italia Distruggere l'Italia Ucciderne i cittadini Non era uccider i cittadini Comunque Devastarla da capo a piedi Finché non arrivano Dei dannati Delle popolazioni barbare Che ci fregano tutto quanto Noi abbiamo cercato di fare Questa campagna È una delle migliori Che a me sta piacendo Davvero tanto Forse per la sua unicità E per il contesto storico Perché io amo davvero tanto Il periodo alto medievale E anche per Il fatto di questi eventi Che però io ragazzi Non ho ancora notato Cioè io non ho notato Ancora degli eventi Nuovi Da parte della moglie Da parte di Giustiniano Non so se magari Perché non ce ne sono O perché è stata la moda Modificare Io non credo sia stata la moda Se voi mi sapete dire Magari che Giustiniano Mi darà altri eventi Altre notizie Magari singole Missioni da compiere Fatemelo sapere Non ditemi Non spoileratemi Quali magari Attenzione No I compagni Ma c'era Giovanni? Mi hanno accoppato Giovanni? O Belisario? Dai non è possibile Io direi di mettere Maoriano di Serdica Che sembra Ma non era morto Maoriano di Serdica? Va bene Mettiamo Maoriano Fazione distrutta Attenzione I Sardi sono morti Sono stati totalmente devastati No Ma hanno accoppato Belisario Belisario si è fatto uccidere Da una spia idiota Io guardate Non so veramente Cosa di mettiamo Maoriano Come mettiamolo così Una cosa buona È che non abbiamo Tantissimi personaggi Quindi è un bene Direi di mettere Faradirri così E siamo tutti contenti Però La nostra spedizione deve Non voglio passare Per i vandali Perché non mi piace Il loro atteggiamento Quindi direi Di raggiungere Le zone limitane A Ravenna E di piazzarci qui Perché non capisco Cosa davvero Stiano facendo questi Si stanno facendo Prendere la situazione Sfuggire la situazione Di mano Tra l'altro I nostri alleati militari Cioè i sardi Non esistono più Abbiamo per fortuna Completato la caserma E dunque Voi mi avete detto Guarda la mod Ti fotte un po' Per quale motivo Perché Ti dà 5000 Di introiti Ma te non puoi Costruire più eserciti Cioè Potete già vedere ragazzi Che se io vado qui Vado a reclutare l'esercito Non posso Però posso prendere Una spia Perché no Prendiamoci una spiuzza Almeno ci può anche Dare una mano Contro questi maledetti E stazioniamo Così almeno Siamo sicuri E dormiamo Sogni tranquilli Nei nostri sacchi Appeli Nelle nostre tende Cosa possiamo fare Io vorrei fare Una bella tenda Del comandante Così da avere Non so per quale motivo Perché è prevalentemente Dell'orda questa Chissà che cosa mi dà Comprendere una cultura Il primo passo Per sconfiggerla Se voi andate a vedere Qui poi Io intanto La comincio a sviluppare Vedete Vi dà un casino Di notizie Che io non ho mai Mai pensato Di andare a leggere Però è interessante Cioè Sarebbe bello Leggerle ogni tanto Magari sviluppare La La tecnologia Che noi Andiamo a leggere E poi Commentarla Però Parte questo Conoscenza Straniera Cioè Belisario Era conoscenza Dei movimenti Dei vandali E questo era A vantaggio suo Per attaccare Cartagine Cioè vi rendete conto Di quanto sono rimaste Indietro queste tecnologie Cioè noi cartagine Neanche la vediamo Col binocolo Direi di spendere 8500 Per le costruzioni Delle caserme Qui però Non possiamo Perché non abbiamo Abbastanza Crescita Però qui si Quindi 6 turni E possiamo Faccio Ma per adesso Direi comunque Di continuare Con queste nostre Piccole Piccolissime Unità Di portare La spia La spia Verso il territorio Di Genova Sempre se vedete Questi Fortunato di Smirna Non ci pensa lui Mentre continua Qui l'assedio Ragazzi Tra pochi turni Arriveranno i nemici E io comunque Direi di fermare Nel frattempo Che noi stiamo a pensare Perché comunque I vandali qui Ci possono attaccare Ma noi siamo insieme Quindi un esercito Da solo Non ci può raggiungere E se ci dovesse raggiungere Non ci farebbe nulla Una cosa interessante L'altra volta vi stavo parlando Della conquista della Spagna Che secondo me È una delle parti migliori Della spedizione Di Giustiniano Non di Belisaro Perché Belisaro Non andò in Spagna Ma è una delle parti migliori Perché fa comprendere Quanto fosse grande Il tentativo di Giustiniano Di voler riunirsi A tutto l'impero romano D'occidente Ex impero Cioè lui cercava Di ampliarsi al massimo E quindi voler raggiungere Il punto più occidentale Attenzione Guardate qui Hanno ucciso un'altra flotta Con la Spagna Quindi la Spagna Era il punto più occidentale Ed era come se fosse Stato unito con lo scotch Perché in Spagna Si parlava L'amministrazione per esempio Parlava latino Quel piccolo territorio Di cui vi dicevo l'altra volta E stavolta Attenzione Guardate qui Nel frattempo Titanic A non finire A Costantinopoli Si parlava il greco Quindi erano due cose Unite un po' Alla buona Però era interessante Vedere come cercavamo Di difenderlo con i denti Il vecchio territorio Nobili in Italia Beato Basilio Cioè ragazzi Beato Basilio Dov'è? Beato Basilio Flavio Belisario Ha dato alla luce Un figlio Non conosciuto da nessuno Beato Basilio Beato Basilio ragazzi Giovannone Già sento un po' Di invidia Nei suoi confronti Perché lui ha dato un figlio Tra l'altro bastardo In nome Nonnosus Però noi abbiamo Beato Basilio Beato Basilio No Basilio Però beato Lui è beato Capito ragazzi Allora Dovremmo sicuramente Farci strada Attraverso il territorio Dei 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 vandali Però a me non mi piace L'idea Io non ho voglia di stare A preoccuparmi dei vandali Io direi di sostare Qui verso la confluenza Del Po Di muoverci Con entrambi gli eserciti E quindi interrompere La costruzione Dei nostri territori Perché dobbiamo raggiungere La parte occidentale così da evitare Di essere messi piuttosto male Se magari noi potessimo Andare con la spia Un pochino qui Per scoprire i territori Guardate Augusta Taurinorum Cioè Torino E Genova Sono vuote Mentre con quest'altra spia Cercherei comunque Di tenerci appiedati Ai nostri eserciti Per avere la protezione necessaria Comunque non sono cattivi eserciti Per fortuna I bizantini Stanno facendo il loro lavoro E Nonostante le incursioni Di Vaglia E di altri problemi Se la stanno Mantenendo piuttosto buona Anche perché Comunque se guardate Le guarnigioni Cioè Io sfido Un esercito di Vandere Ad attaccare Queste guarnigioni Quindi ancora una volta Dovemo passare il turno Ragazzi Questo è un po' Un episodio così Nel frattempo Qui Padova Quanti turni ancora Un turno E Padova cadrà finalmente Io Io ho preso Aquileia Quindi così sono tutti felici E contenti E mi chiedo Se Giustiniano Sarà in grado Di affrontare questa fazione Che tra pochi anni Pochi mesi Si farà vedere La faccenda Era che In Spagna Come vi ho detto I romani controllavano La costa E quindi Soltanto le città Con le cinta di mura Attenzione qui Cercheranno di depistarci Erano protette E i visigoti Potevano tranquillamente Razziare E distruggere Le campagne Della terra Dell'entroterra Tranquillamente Ma non avevano Le capacità militari Per poter assediare Dunque per molti anni Riuscirono a tenere la Spagna I romani tra l'altro Controllavano Posti come Ceuta Che erano Una piccola enclave O enclave Una piccola enclave Nel territorio africano Quindi La costa vicino Gibilterra Così da poter controllare I commerci della zona E anche le baleari Le baleari ragazzi Furono tenute Fino All'ottavo secolo Dopo Cristo Quando i sarasceni Non intervennero E le presero Ed era l'ultimo territorio Rimasto ai bizantini Dopo la riconquista Visigota della Spagna Quindi Un territorio importante Che però qui Attenzione vedo Cosa sta succedendo Un altro Giovanni d'Armenia Con Clementina Ha fatto Megisto Basilio Ma cos'è la moda Dei Basili Adesso Quindi direi Nonnosus però Non lo ucciderei Perché Nonnosus È l'animo malvagio Di Giovanni d'Armenia Perché dovete sapere Che Giovanni d'Armenia È un bravo ragazzo Un bravo bambino Però dentro di lui cova Un'invidia Per Beato Basilio Che lo porta Ad aver creato Nonnosus Argiro Nonostante Nonnosus sia nato prima E dunque Nonnosus Argiro È la nemesi Di Beato Basilio E Beato Basilio È il fratello Io comunque direi Di non preoccuparsi Di Mediolanum Della banca E di altri problemi simili Quanto piuttosto Dato che comunque Vedete la Toscana Per adesso Si è un madonna Ristabilizzata A parte qui Il Tirreno Di andare Stile Garagofest Verso questi territori Con entrambi Soffriremo un po' Di freddino Perché comunque Siamo in inverno Nel 539 Ragazzi Voglio farvi notare E di avvicinarci Sempre con la spiuzza Mentre quest'altra spia Portiamola verso Augusta Taurinorum Per scoprire un po' Il daffarsi Non vedo altri problemi Però comunque Potete Dalla mappa interattiva Noi ragazzi Possiamo vedere Che ci sono tanti problemi C'è una flotta Un esercito E un altro esercito Che sta Non sta conquistando Agrigento Ma la sta razziando Ma a me Non mi interessa Stanno Prendendo C'è un altro esercito Di vandali Qui nell'oriente Dell'Italia Quindi ad Ancona Un esercito di vandali Qui Una flotta di vandali Tutte le flotte Invece dei sardi Sono Dei sardi Scusate Dei mori Sono concentrati In Corsica E qui sono soltanto Strogoti Non è tragicissima Ma siamo fottuti Direi comunque Di indirizzare I nostri sforzi Vediamo un attimo I nostri obiettivi Noi dovremmo comunque Tenere il controllo Vediamo Di Ravenna Dovremmo farcela Perché comunque I loro eserciti Sono qui Se dovessero prenderla Sono cavoli miei Però sembra che Non riescano a raggiungerla Per adesso Nei nostri obiettivi Principali Dovrebbero esserci Anche Forse Mediolanum Ci conviene prenderla Però se dovesse Spawnare da lì Quella fazione Nemica Ce la prenderebbe Comunque subito Quindi è meglio Non prenderla Vedete che molte cose Ci rimandano All'Africa Perché ovviamente L'Africa fu conquistata Da Belisario Tipo qui La costa della Mariettania Fu conquistata nel 534 E noi non l'abbiamo fatto Purtroppo Dobbiamo passare il turno E dirigerci Rapidamente Lontano da questo Che sarà Per diventare Una polveriera esplosiva Come fecero I stupidi turchi Col partenone Il partenone Se non lo sapete Fu utilizzato Come armamentario Per poter stoccare La polvere da spare A un certo punto Non mi ricordo Nel 1700-800 Esplose Come un Un negozio Di fuochi Di fuochi d'artificio Il capo della Spagna E questo l'ho letto Fu chiamato Magister Militum Spanie Ed era soltanto Subordinato a Giustiniano Quindi lui aveva pieni poteri In Spagna Ed era un patrizio ovviamente Attenzione Guerra dichiarata Tra Suebi E Regno Franco Faramondo quindi O più che altro I superstiti di Faramondo Si sono arrabbiati piuttosto Noi andiamo a Genova Cerchiamo di visitare L'acquario E tutte le sue bellezze Come le meduse E altri mostri marini E la distruggiamo Prendiamo Genova Tranquillamente Modalità aggressiva Intanto i nostri eserciti Ovviamente Livellano Ma attenzione Però Ora che mi ci fate pensare Noi ovviamente Rivendichiamo sempre Per l'impero romano d'oriente Perché è il nostro obiettivo Di questa campagna Io Per adesso non ho intenzione Di rendermi indipendente Anche se ovviamente Può sembrare strano Cioè cacchio Scazzone Stai lavorando Per l'impero romano d'oriente Eppure non fa nulla Per difenderlo Non sono problemi miei Voi vi avete detto Giustamente Te conquisti i territori Loro se li devono mantenere Il discorso Non fa una piega Cioè noi siamo La punta del diamante Che cerca di perforare Questo vetro Chiamato Regno barbarico Però la cosa che voglio fare È togliere Dato che io penso Che Belisario La fascia Se l'è tolta dalla testa Dunque io direi Di togliere Il mauriano Dal nostro esercio Della spedizione romana Dei compagni Ovviamente i compagni Li chiameremo I compagni scazzoni Dopo anni e anni Di guerra insieme È giusto che siano così E i compagni scazzoni Noi con calcio Lo leviamo dalle scatole Al nostro mauriano Di serdi Che mettiamo Flavio Belisario Che è un animale politico Lui è molto vivace Lui È molto Su di giri Tutte le volte Ha una buona Ha un volto sfregiato Tutte le battaglie L'hanno reso un po' La nostra amica Di Layers of Fear Ama i romani Come non potrebbe Lavora per lui Sicuro di sé Nell'attacco È un po' estromesso Cioè è un po' messo Da parte della moglie È un po' anche Fidei defensor Come abbiamo visto L'altra volta Cioè è difensore Della fede E torna a Belisario Dopo un'assenza Di soli 5 giorni Di cui tutti Cominciavano a preoccuparsi Ma dov'è Belisario Dov'è Belisario Dov'è Belisario Belisario adesso è qui Direi comunque Di andare a prendere Torino Ragazzi Torino è importante Perché ci potete vedere Ha il commercio Del pietrone Quindi noi stazioniamo Un turno Che sta Muovendoci E stazionando Ogni volta di un turno Piano piano Cominciamo a sviluppare La caserma Magari proviamo Questa spie L'abbiamo già mossa Dannazione Andiamo avanti Andiamo verso Nicaia Nicea dovrebbe essere Possibile O comunque Nizza Ecco Non mi veniva il termine Nicea non è lì Nicea è in amnesia minore Ok Qui è strana la cosa Perché la campagna È a livello molto difficile Eppure Qui non fanno niente Cioè stanno fermi Immobili Io fossi stati vandali Più che stare qui A scorrazzare nei campi dell'Italia Avrei cominciato a prendere Dei territori Che poi Dannati vandali Li avevamo distrutti Una volta per tutte Eppure Non riusciamo a debellarli Come nella mia campagna Sono rinati E mi stanno spaccando tutto Potete vedere Che qui c'è anche Un territorio Dei ribelli Potremmo sempre prendere Ed è Massale Cioè Marsiglia Grandissima città Fondata da colonizzatori greci Comunque Una cosa bellina È che nel 700 Quindi molti anni dopo La scomparsa Della colonia spagnola bizantina Ci fu Secondo uno storico Una storia Che narra Di una flotta Una singola flotta Che andò nelle coste spagnole E cominciò a razziare Le coste dei Visigoti Così A gratis Ovviamente fu scacciata Dal primo conte di turno E fu distrutta Ma secondo molti storici Questa fu Un tentativo Seppure labile Di poter restaurare L'impero umano d'Oriente In Spagna ovviamente D'Oriente D'Occidente Predica la sventura Qualcuno dice Che io sono un cornuto E hanno ragione Attenzione Queste spie Mi stanno dando Su di nervi Quindi io direi Di raggirare questa gente Spendiamo un pochino di soldi Ma potete vedere Che con la perdita Di quei eserciti Non abbiamo più Per mia sfortuna O nostra sfortuna L'abilità Di poter mantenerci Con tutti i soldi Tanti eserciti Poi mi avete detto Prova a reclutare altri eserciti Ragazzi Finché non abbiamo Un aumento Della grandezza Delle nostre orde Noi non possiamo farlo Facciamo un attacco notturna Anzi no Se dobbiamo fare un attacco notturno Non dobbiamo farlo Possiamo fare un attacco notturno Con Giovannone Che dato che comunque Ci sono stati terciari Facciamo una modalità Aggressiva Distruggiamo Stacamo Mi stavo rendendo indipendente E potete vedere Che abbiamo preso Torino E abbiamo scoperto Un nuovo territorio Qui tra le Alpi Innevate Fredde E gelide C'è Avvoletto Belisario Ma Besanzio Che è un territorio Dei Franchi Una nostra piccola Reminescenza Io non li conosco Questi Franchi Voi li conoscete Facciamo così Direi di Muoverci rapidamente Intorno all'orda Di Belisario Che nel frattempo La facciamo stazionare Per poter Avvantaggiarci Nella costruzione Della caserma Abbiamo un buon ordine pubblico E vediamo un attimo Il da farsi Io abbiamo preso La Liguria Ma questo territorio Di Milano Glielo lascerei Anzi no Ragazzi No Glielo lascio Non ce la faccio A sapere Che devo lasciare Un territorio In mano Agli Ostrogoti Però si sta avvicinando E siamo a dicembre Ragazzi Questa è una cosa interessante Non lo sapevo Passando il cursore Sulla stella Vi dice il mese Porca miseria Quindi il prossimo anno Ragazzi arrivano Ora arrivano Ora Ora arriva questa flotta Arriva questa flotta Arriva questo esercito E siamo finiti Abbiamo raggiunto Gli 8000 iscritti E' una cosa straordinaria Straordinaria Perché siamo un canale Ovviamente Incentrato su tanti gameplay Ma Il mio cuore pulsante Sono i Total War E' un canale che In 8 mesi 9 Ha raggiunto 8000 iscritti E' una cosa fantastica Siete meravigliosi Vi risponderò Allo speciale Delle vecchie domande Che voi mi avete posto E lo farò Perché deve arrivare Lo speciale E adesso andiamo Versi 10.000 ragazzi Tutti insieme Un'armata scazzona Pronta contro Giustiniano E contro i Mori Ok Siamo nel 540 Obiettivo centrato L'ascesa di un impero Ragazzi L'impero si rialza Ancora una volta E il mondo oscuro E' di nuovo inondato di luce Perché guardate qui Abbiamo riportato L'impero romano d'Oriente E d'Occidente Quasi la sua grandezza Ma le terre imperiali Non sono ancora libere Dalla feccia barbarica E per questo Roma Deve marciare contro di loro Il tempo scorre Abbiamo raggiunto Molti obiettivi Ma le altre sventure Si prospettano all'orizzonte Devi stare zitto C'è la gufi Comunque Tre obiettivi su sei Non è malaccio Missione assegnata Falsi re Quindi quarto capitolo Nuove avventure Grazie alla forza E alla giustizia divina Nel nostro mondo E di nuovo nostro L'impero riconquistato Ora devi essere Forte e risoluto Senza vacillare Davanti a una schiera Di aspiranti re indegni Dobbiamo sopravvivere Per altri 7 anni Che sono tanti Dovrebbero essere forse Il doppio Quindi 14 anni E ora siamo a gennaio Che secondo lui E primavera gennaio Va bene Non so Non esistono più Le stagioni di una volta Si diceva un tempo Infatti è vero Allora Dato che qui Aquileia è sguarnita Prevede un arrivo Di questa nuova fazione Da Aquile Quindi la conquisteranno Non si sa per quale Fottuto motivo I vandali Si trovano nella pianura padana Questi stanno sempre qui Ma per ora L'Italia sembra sgombra Se non che qui Cominciano un po' a razziare Agrigento Resiste Un po' l'ordine Dello squallore È un pochino basso Però cosa facciamo Allora ragazzi Noi abbiamo Ultimato ancora la caserma Quindi è un bene Però direi di fare Molto rapidamente Di fare baracche e burattini E di levarci dalle scatole Mi avete detto Vai in Sardegna e Corsica A me sarebbe piaciuto Andarci Ma c'è il mare nel mezzo Oh bravo Scazzone Un'altra cosa normale È ovvia che hai detto È una cosa ovvia Però c'è il mare E cosa implica Che ci sono delle flotte nemiche Noi non abbiamo una flotta Noi siamo lordi di terra Potrebbero affondarci Come un niente Allora Vediamo i nostri nuovi obiettivi Ragazzi Vediamo gli obiettivi Del quarto capitolo Influzzo Dobbiamo sopravvivere Grazie alla forza divina E alla giustizia divina Il nostro mondo è di nuovo nostro L'impero è riconquistato Ora deve essere forte Per poter resistere Quindi Dobbiamo Detraibile dalle tasse Termina il turno Con introiti 10.000 Ci siamo quasi Ma grazie alla mod Quindi molti ostrogotti Furono eliminati E infatti è vero Molti altri risorsero Con Totila Ma risorse qui In questa zona È nostra Quindi non c'è più E presero il controllo Di una buona parte Della campagna italica I loro sforzi Riuscirono a ostacolare Il flusso degli introiti Dell'impero E lo lasciarono con pochi fondi Con i quali combattere Questa nuova aggressione Giochi di potere Dobbiamo dare mille Perché Tributi Alla seguente Fazione Regno ostrogotto Facciamolo Non so per quale motivo Ma non possiamo farlo Quindi non lo facciamo Non so per quale motivo Dovrei dare L'uomo è volubile Così anche Così anche i goti Belisar avrebbe potuto Sfruttare queste fragili alleanze A proprio vantaggio Ma non siamo alleati amico Quindi non potremo farla Separatisti Noi non possiamo farla Separatisti Non si sputano il piatto Dove si mangia Qui dobbiamo prendere Ravenna Ma non mi interessa Sperizione Il compito va portato a termine Dopo essere stato inviato a Est Quindi conti persiani Perché era sempre una minaccia Belisar fu rimandato Nella penisola italica Perché la situazione Era deteriorata Durante la sua assenza Danato un'arsete Tuttavia non riuscì a replicare I precedenti successi Come il gratte vinci Vinci una volta Non vinci più In quanto a causa Dell'invita di Giustiniano Li furono negati Gli uomini necessari Per assicurarsi la vittoria E dobbiamo mantenere 200 unità in tutte Ne abbiamo 60 Come facciamo? Non abbiamo la grandezza necessaria Forse da qui a 7 anni Ce la possiamo fare Belisario risoluto Non dobbiamo stanziarci Quindi una Per adesso Ce l'abbiamo fatta Vedete Belisario era stato Declassato dall'imperatore Che roso dall'invidia Preferiva far salire Al potere dei rivali Piuttosto che il primo generale Vabbè Nonostante ciò La fedeltà di Belisario Fu incrollabile Ed egli continua a combattere In nome dell'imperatore E noi lo saremo ragazzi Incrollabili nella nostra fede Con i romani Andiamo piano piano Verso il territorio Di Nicea Quindi ci sono nuove fazioni Che probabilmente abbiamo incontrato Che incontreremo Perché la Spagna E parte della Francia Sono ancora sconosciute Ai nostri occhi Vediamo se possiamo fare qualcosa Con il regno franco Che però ci odia Questo Teodeberto Che mi ricorda Carl Con una nuova corona Ci odia tanto Moltissimo Gli unici cui siamo simpatici Sono i bizantini Che però Siamo in grosso Deterioramento E non capisco Per quale motivo Siamo in deterioramento Con loro I separatisti orientali Che però Prevedo Noi attaccheremo Perché piano piano Ci stiamo deteriorando Anche con loro Io direi di provare Di raggirare ancora Questa gente Per ingannarlo E siamo riusciti Finalmente Nel nostro intento Noi stazioniamo sempre In questo stretto Delle Alpi Della Provenza E direi di passare Ancora il turno E vedere cosa succede Quindi il nostro obiettivo Nel frattempo è Non fregarci Assolutamente Di quello che succede In territorio Dell'impero romano D'Oriente Ma a lasciar fare Tutto a Giustiniano E nel frattempo Di andare A ultimare La distruzione Degli Ostrogoti In Francia Perché Secondo i miei calcoli Questa nuova fazione Dovrebbe entrare In contrasto Anche con gli Ostrogoti E dunque Dovrebbe distruggere Quei rimasogli Presenti nel territorio Di Milano E non so Di quali altri territori Spendiamo Questo campo militare Per aumentare la crescita Perché ne abbiamo bisogno Con Giovanni Potremmo anche aumentare La crescita No Non si aumenta La crescita Delle orde Con il cibo Strano a dirsi E andiamo a Nicea A Nizza Scusate Ancora Nicea E stazioniamo Con Belisario Perché io voglio Far livellare lui Al massimo E poi quando avremo Fatto livellare Al massimo Belisario Passeremo a Giovannone Giovanni e Belisario Best friends forever Anche in Provenza Facciamo la realtà Equilibrata E molti di voi Mi avete detto È noioso Guardarti prendere I territori così Molto facilmente Ma per me non lo è Per me è divertente Riuscire a espandermi Così alla grande Anche se Siamo come i russi Nel 1800 Un gigante Dai piedi d'argilla Cioè noi Ci espandiamo Ma lasciamo dietro di noi Territori vuoti E senza persone Quindi Siamo ora a febbraio Quindi Non so davvero Quando spannerà Andiamo avanti Con la nostra spiuzza E guardate qui Possiamo Approfittare Del contrasto Che qui Tra quanti turni Tra otto turni I visigoti Riusciranno a ultimare La conquista di Marsia Noi impediamo Io lo sta colando L'esercito Successo molto importante Quindi il nostro Ampelio Ampelio Deve prendersi La sua rivincita Contro gli ostrogoti E Ovviamente stazioniamo Perché tra quanti turni Vediamo Tra due turni Finalmente possiamo Ultimare la nostra spedizione Avevamo un'altra spia Ma evidentemente Ce l'hanno accoppata Letteralmente Mentre Qui invece Dando sempre un'occhiata Molto rapida Non vedo Qui Come sempre Addirittura tre eserciti Quindi Addio Sicilia È stato bello Averti finché Abbiamo goduto Insieme dei nostri Doni Anche se qui Cavolo Alleati militari Con i mori Non è possibile Gli ostrogoti Invece sono alleati Con i visigoti Giustamente E noi siamo in guerra Anche con i visigoti Da quanto Io non lo sapevo Noi siamo in guerra Con mori Vandali Visigoti Ed ostrogoti Noi siamo noni Ragazzi I visigoti sono primi Noi ci stiamo avvicinando I visigoti Ci fanno un culo Che neanche ce l'immaginiamo Dunque la cosa che dobbiamo fare È magari Fermarci in Provenza E sfoltire la zona Della Della Burgundia E niente di più Della Borgogna Che è della Burgundia Perché io non voglio Adentrarmi Ovviamente qui c'è Nim Narbona Tutti i territori Dei Berberi Non si sa per quale motivo Ma i Berberi Non sono per adesso In guerra con noi Quindi ci possono fare da scudo Mentre qui cercano sempre Di depistarci Io direi Di avventurarci Verso Marsiglia Uccidere questo esercito Magari combattendo la battaglia Perché potrebbe essere interessante Tradire questi qui I separatisti Perché essendo separatisti Sono contro l'imperatore E poi non lo so Poi possiamo provare A prendere Vapinkum E poi vediamo il da farsi Una cosa per volta Però potete vedere Che Giustiano Non mi ha dato degli ordini E mia moglie Si è zittita stranamente Cioè è morta? No Mia moglie è ancora vita No Allora meno male Meno male Megisto Basilio Stupido bambino infantile Che è morto Però beato Basilio Siccome è beato Deve sopravvivere Tra un turno finalmente Completeremo La nostra bellissima Casermona E avanziamo Mamma mia Quanti turni ci vogliono Per girare Nicea Nizza Lannazione Nicea Abbassiamo qui Perché mi vedete Con uno bagliore Ora che ho abbassato I raggi divini del Dio Scazzo Posso tranquillamente Essere ancora di più Nell'ombra Comunque Facciamo l'ultimo turno Ragazzi Siamo a marzo Potete vedere Che stanno conquistando Mediolano Però hanno Abbassato C'erano un po' Di eserciti Qui c'erano Dei vandali Che non vedo più Dove sono finiti Mentre qui Vabbè Agrigento Ormai possiamo Considerarla persa Ma l'Italia Come penisola Sta resistendo Anche se qui ci sono Dei vandali Che sono alle nostre Calcagna Forse sono proprio Stanno cercando Di raggiungere noi Forse Ok abbiamo Depistato questo Stupido campione Passiamo il turno E abbiamo Un'abilità Non assegnata Dobbiamo corrompere Teodosio Perché questa stronza Comincia a diffamarci Quindi Clementina Vattene a quel paese Impedimenti politici Ognuno da sé Fa per tre Abbiamo un buon Controllo politico 53 Molto equilibrato Quindi direi Di non toccarlo Ulteriormente Mediolanum Tra Quattro turni Dovrebbe Cadere Io non capisco Siamo in estate Per quale motivo Non arrivano Attenzione Marsiglia è stata Conquistata E' l'ora di far Vedere Chi ce l'ha più lungo Dunque Stazioniamo Con Giovanni Vicino a Marsiglia Proviamo A ostacolare Viteric Un'altra volta Ennesima volta Ci siamo Riusciti Ancora una volta Il nostro spione Molto bravo In questo Obiettivo Mentre Riusciamo A sediare Marsiglia Nonostante Viteric Sia stato Ultimamente Ultimatamente Ultimamente Depistato Qui i vandali Ci stanno seguendo Ragazzi Ci toccherà affrontare I vandali Una cosa per volta Sistemiamo Marsiglia Sperando che non arrivino Da orienta Occidente I visigoti Questo è davvero L'ultimo turno Un ultimo turno E poi basta Poi la concludo Perché altrimenti 33 minuti Il mio telefono Non penso Riuscirà a resistere Ancora di più A registrare Però ho sfoltito Un po' Ragazzi Di memoria Quindi Già che 27 minuti Ho preso 5 minuti buoni Di registrazione in più Ed è già qualcosa Potete vedere qui Che non hanno fatto niente A Marsiglia Potremmo provare A combatterla Perché c'è un esercito E' molto interessante Anche vedere Marsiglia Come viene resa E quindi Devozione Attenzione Giovannone diventa Ancora più leale 11 su 10 IGN I vandali dove sono Ragazzi Non mi convincono Con la spia Andiamo qui Andiamo di qua Per capire cosa Diavolo sta succedendo A Vapinkum Perché non voglio Avere problemi A nord Vapinkum È vuota E invece Qui ci sono Un esercito intero Guardate qui Guerriere Strogoti Molto media Ma per ora niente Questa fazione Sconosciuta ancora Non si fa vedere Vediamo Per fortuna Con questi Separatisti occidentali Noi non siamo entrati In conflitto Beh ragazzi Non c'è Viteric Potremmo anche Non combatterla Perché ce l'ha Talmente scontata Che vedete Ci sono tanti Di questi eserciti Vabbè vai Non Ok non va arrabbiate Prossimo episodio Combatteremo una battaglia Io lo faccio Perché devo velocizzare Questa campagna Perché non avrò Moltissimo tempo Per continuare Quindi prima la mando avanti E meglio è Però nel prossimo episodio Ci sarà una battaglia decisiva Perché molti di voi Mi avete detto Prova a fare Almeno una battaglia In ogni singolo episodio E io ci proverò Abbiamo preso Marsiglia Un po' in fretta e furia Ci stiamo espandendo Un pochino a macchia d'olio Potete vedere Abbiamo dei franchi Qui a Valencia Ma per l'ora Non mi interessa L'unica incognita Sono queste fazioni Che dovrebbero Questa fazione Vrebbe sbucare Da qui e qui Quindi stiamo Un attimo a vedere Ditemi la vostra Commentate E ditemi soprattutto Le mosse future Da fare Perché io ci tengo E il mio intento È non andare A entromettermi qui Nei visigoti Ma finire la faccenda Qui in Borgogna Per quanto riguarda Gli ostrogoti E poi vediamo Un attimo come Se la cavano Gli orientali Con questa fazione Lasciate un commento Un like E condividete il video Sempre se vi va Vi ringrazio E come sempre Ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti